Non possiamo più aspettare, dobbiamo assolutamente renderci conto che c'è il rischio che qualcuno non arriverà ad ottobre purtroppo, penso anche alle attività produttive, commerciali ed economiche, le famiglie che non riusciranno ad arrivare perché dietro un'attività produttiva ci sono i lavoratori, ricordiamoci che ci sono i lavoratori. Cresce l'allarme inflazione nell'Aretino, lamento medio in provincia di Arezzo secondo quanto riportato dai dati Istat elaborati da Infodata del Sole 24 ore a maggio era stato del 7,6% ben oltre la media nazionale del 6,8%. Il territorio aretino è addirittura 14esimo in Italia tra tutte le province. Questo è un campanello d'allarme fortissimo e dobbiamo rendercene conto, stiamo andando incontro non solo all'inflazione, quello che noi temiamo di più sia la stagflazione, addirittura facciamo i debiti scongiuri ma il rischio c'è, ovvero sia quando l'economia reale non riesce a stare al passo con l'inflazione galoppante. In cima agli aumenti tra maggio 2021 e maggio 2022 c'è quello relativo all'energia elettrica, gas ed altri combustibili che nella retina si attesta a più 67,6%. Pesano tantissimo per le famiglie ma pesano tantissimo anche per le attività produttive, per le attività agricole. Impennata poi anche tra i prodotti alimentari più 9% in 12 mesi. L'anello debole della catena purtroppo è quello finale, ovvero sia il consumatore, soprattutto il consumatore a reddito fisso per cui deve fare i conti sempre con quell'introito mensile ed annuale, è l'anello debole perché grava sempre di più questa catena di rincari. Cosa si può fare? Ci sarebbe tanto da fare, ci vorrebbe anche tanto coraggio e sarebbe opportuno che il governo che è ancora in essere prenda delle decisioni più coraggiose. Sarebbe veramente svincolare, non aspettare ottobre forse, svincolare il calcolo dei prezzi ai derivati. Bisogna incentivare assolutamente l'autoproduzione energetica. Dobbiamo pensare a dei bonus mirati pensando a uno sviluppo di paese. Sarebbe un'autoproduzione energetica. Ciao. Grazie a tutti.